Vogliamo, vogliamo collaborare, vogliamo suggerire all'amministrazione comunale che siamo disposti anche a essere propositivi su talunitemi che riguardano un'opera di fondamentale importanza per il futuro, il futuro dell'economia, il futuro anche dell'immagine turistica al Vente. Cosa significa questo? Sono due mesi, solo due mesi che sono stati riconsegnati i lavori, soprattutto riguardo il primo straccio di lungomare, diciamo il primo straccio di lungomare e noi abbiamo raccolto tante segnalazioni da parte dei cittadini, segnalazioni ma anche preoccupazioni, richieste, domande, che sarà nel prosieguo dei lavori, che sarà, quale sarà il destino dell'alberatura, del patrimonio arboreo esistente. Su questi temi noi ci abbiamo fatto diverse battaglie, abbiamo fatto anche una raccolta di firme, siamo intervenuti, grazie appunto alla nostra raccolta di firme si è portato a conoscenza di tanti cittadini che erano un po' all'oscuro in Consiglio Comunale, però...